Amici sportivi, un cordiale saluto. Apriamo con il calcio femminile con il campionato di Serie C, il recupero di Porcari tra Lucchese e Spezia. Una bella serata di calcio per il recupero della C femminile tra Lucchese e Spezia, gara che non si poteva giocare lo scorso 30 gennaio a causa di diversi casi di Covid nella squadra Ligure. Stavolta si gioca e si fa sul serio. Punti pesanti in palio per due squadre che sono in ritardo sulla tabella di marcia e che devono guardarsi alle spalle. Il primo tempo, a Porcari, è a dir poco scintillante, perlomeno per le azioni e le reti che proporrà. Sono le rossonere di Nazareno Tarantino a portarsi in vantaggio all'undecimo, clamoroso errore del portiere Spezzino che invece del rinvio lancia il pallone in zona Pironi per il comodo tocco in fondo al sacco. Le difese non sono in grande serata sul sintetico di Porcari, la dimostrazione palese al 18, lunga azione insistita delle bianche fino alla respinta corta della Marchetti. Per la svedese Andersson è un gioco da ragazze, il pareggio è così bello e fatto. Cinque minuti più tardi lo Spezia si porta addirittura in vantaggio, su rimessa laterale azione in palleggio della Buono che scaglia uno shoot di destro a mezza altezza che non lascia scampo al portiere rossonero. Gara ribaltata nel breve volgere di una manciata di minuti, è partita tutta in salita adesso per Moni e compagne. Ma la lucchese non ci sta e al 35esimo trova il punto del pareggio con una magistrale palombella di Valentina Bengasi. La numero 10 rende onore al numero di maglia che indossa, parità ristabilita. Ma nel finale del primo tempo arriva un terribile 1-2 che mette al tappeto la formazione rossonera. Al 44esimo sul calcio d'angolo dalla destra ancora l'Anderson svetta di testa tutta sola due passi dalla porta per il punto del 2-3 e la doppietta personale. Poi in pieno recupero ancora Spezia a punire la lucchese. L'azione si sviluppa sulla destra con un tiro in diagonale che la Marchetti respinge, la difesa si addormenta e la punta centrale Yashishin, che di nome fa vittoria, scaraventa dentro il punto del 2-4 che fa male. Tanto male. Sotto di due reti a riposo non è cosa buona e il risultato è anche eccessivamente pesante. Il canovaccio tattico della ripresa è chiaro, Lucchese in avanti e Spezia ad agire nelle ampie praterie con la solita minacciosa svedesona Anderson. Tarantino si gioca la carta Fenili, potenza e esperienza nonché fresca ex di turno. Le rossonere spingono e hanno anche buone occasioni con la stessa Fenili e la Tata, ma non le sfruttano a dovere. Per il punto del 3-4 bisogna attendere addirittura il 91esimo, quando l'arbitro concede un rigore per un fallo del portiere sulla Tata. Dal dischetto la stessa giocatrice romana fa centro, quarta rete consecutiva, con un tiro a mezza altezza e accorcia le distanze, quando però ormai è troppo tardi. Tempo non ce n'è più. Vince lo Spezia 4-3, un successo importantissimo per le Liguri, che fanno festa grande. Delusione invece in casa rossonera, ma con la possibilità di rifarsi già domenica prossima, quando al parisotto di Val d'Ottavo calerà il Real Meta. Le motivazioni non mancano per fare bene, riscattare lo 0-3 del match di andata e guadagnare punti, perché la classifica non è affatto rassicurante. Ghiviborgo-Bagnolese, gara della ventitresima giornata del campionato di Serie 10, giocherà domenica prossima, ore 14.30, allo stadio Carraia di Ghivizzano. Dopo un lungo iter, l'impianto, completamente ristrutturato, è finalmente a disposizione della società del presidente Alessandro Remaschi. Vi giocheranno anche le squadre del settore giovanile. Sempre in tema di Ghiviborgo, ma di mercato, preso l'attaccante Daniele Melandri, classe 88, nuovo giocatore del Ghiviborgo. Ruolo attaccante, nello specifico seconda punta, arriva dall'attrizio, formazione con cui ha giocato nella prima parte della stagione. Campione italiano di lancio del Giavellotto, Roberto Orlando, della Virtus Ducca, sarà tra i protagonisti domenica della seconda prova regionale dei campionati italiani di lancio invernali, che si svolgerà al Moreno Martini di Lucca. Nel 2021 Orlando, ricordiamo, è stato il migliore in Italia, superando gli 80 metri, 80 e 35. È probabile che assista alle gare anche Nicola Vizzoni, responsabile del settore lanci della nazionale italiana. Ancora un posto guadagnato da Jasmine Paolini nel ranking della classifica mondiale. La ventisenne giocatrice lucchese è salita adesso al numero 48, una classifica prestigiosa che Jasmine dovrà difendere nella sua campagna medio orientale, dove si intende il torneo VTA 500 di Dubai, che scatterà da sabato, e successivamente quello di Doha. Prosegue il nostro racconto del rally del ciocco, il ciocco story. Siamo al 2015, l'anno in cui andò, come vi raccontiamo. Alessandro Perico, su Peugeot 208 R5, vince il 38esimo rally del ciocco della Valle del Serchio, prova di apertura del CIR 2015. Sul podio di Castelnuovo Garfagnana lo accompagnano Rudy Michelini e hashtag NC3 al secolo Nicola Caldani. Paolo Andreucci, tradito dai freni nella prima tappa, deve accontentarsi del quinto posto. Un piazzamento deludente per la loro otto volte campione italiano, ma che alla luce delle defiance di scandalo e basso, fu quasi una mezza vittoria. Nella seconda giornata ripartono il 48 per una seconda tappa corta, ma quanto mai impegnativa. Lo spauracchio è il temuto Coreglia, nato dalla fusione tra Coreglia e Teregli, una sorta di super Coreglia. Oltre 20 chilometri di fascino, ma anche di rischio su strade più che insidiose e viscide. Siccome il rally del ciocco non è mai finito né scontato, il colpo di scena è bello e servito. Gian Domenico Basso, che ha la corsa in pugno, sbaglia nel momento cruciale, ed è costretto ad un amaro ritiro con la sua forfiesta GPL. Il campione trevigiano fallisce così la quarta vittoria sulle strade della Valle del Serchio. Si rifarà nel 2019. Perico così ringrazia, si ritrova in testa la classifica. Il Bergamasco gestisce e controlla sul secondo ed ultimo passaggio sul Coreglia. Stessa tattica adottata da Albertini alla fine quarto e dallo stesso Andreucci. A vincente ricca di colpi di scena la lotta per il secondo e terzo posto. Sembra spuntarla a cald'anima una penalizzazione, favorisce Michelini. Piazza Umberto alle 12.30 in punto celebra così il meritato trionfo di Alessandro Perico, il pilota bergamasco che altre volte era stato protagonista. Soddisfazione anche per Caldani e Michelini, che trovano un podio forse insperato, ma il più sannato della folla è senza dubbio Paolino Andreucci, la fan di UPI e vincitore morale della corsa. Anche perché Ucci dimostrò che senza quel problema i freni avrebbe vinto a mani basse ed infatti alla fine di quella stagione avrebbe suonato la nona, intesa come titoli tricolori vinti. E Noi TV vi proporrà quattro puntate speciali di Rombo di motori dedicate appunto al rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Si partirà mercoledì prossimo, 16 febbraio, subito col Botto, ospite della prima puntata. Sarà infatti il pluricampione italiano Paolo Andreucci, che sarà al via del Ciocco 2022 e che di questa corsa è il plurivincitore, avendola vinta, pensate, ben otto volte. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi la terza ed ultima parte.